Non so se sono riuscito a infilare dentro il concetto. Don Matteo, lei l'hai preso dentro il concetto? L'hai preso tutto? Vediamo un po' se c'è ancora Don Matteo, se ha preso il concetto fino in fondo o se non l'ha preso. Quindi dobbiamo tenere presente questo fatto. L'elemento infilante, Don Matteo, no aspetta Don Matteo, non hai sentito nulla per il motivo 2, non per il motivo 1. Perché quando un qualcosa entra e da qualche parte non si sente nulla, non è detto che la cosa che entra sia dimensioni ridotte. Potrebbe darsi, e questa è l'ipotesi, che dove viene infilata la cosa ci sono dimensioni devastate, diciamo così, devastate, per così dire. Esatto, parlo del Freius, come dire, se prima c'è passato Rocco e poi dopo è ovvio, quindi dice, però prima c'è passato un tir, insomma. E quindi è quello lì il motivo Don Matteo, il motivo di fondo perché non si sente quello.